Annarita Zappulla, la preside d'Imperia, arrestata dai carabinieri perpeculato e rimasta nel carcere femminile di Genova Ponte Decimo per tre giorni, non avrebbe dovuto essere arrestata. Lo ha scritto chiaramente il giudice per le indagini preliminari nel dispositivo con cui ha sancito che la donna fosse immediatamente liberata senza essere sottoposta a nessuna misura cautelare. Il GIP Massimiliano Reineni non solo non ha convalidato l'arresto della preside Zappulla e non ha disposto a suocare qualcuna misura, ma ha anche evidenziato come non vi fosse alcun obbligo di arresto e ha persino derubricato il reato da peculato nella meno grave accusa di peculato d'uso. E' stato infatti accertato che Annarita Zappulla ha fatto uso dell'auto dell'Istituto Marconi d'Imperia pagando però le spese di carburante e autostrada e proprio il giorno dell'arresto fra l'altro si era recata a Mentone per incontrare la segretaria della scuola e definire un progetto di finanziamenti europei che avrebbe dovuto essere consegnato il successivo lunedì. Il suo arresto è la mancata consegna delle carte in base a quanto riferito dalla preside difesa dall'avvocato Andrea Rover e costato all'Istituto Marconi la perdita di un finanziamento di 400.000 euro da destinare alla formazione degli studenti. La preside Zappulla in ogni caso dovrà rispondere in sede penale amministrativa dell'uso improprio in alcune occasioni dell'auto di servizio della scuola.